musica 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 emus non voleva provare quella con i russi andiamo tutti con i russi andiamo con i russi perchè ci piace vincere facile no? ponchi ponchi che sintonia no soprattutto con peppe l'abbiamo fatto entrambi io faccio questo ragazzi stacco è l'ultimo e anche io e c'è su ps5 se non erro sto e xbox s sì il ps5 xbox xr e xrds ma non lo posso dire dubroskniak DOOOOOOH FALLO 1000 FALLO 1000 FALLO 1000 Questa partita ci ha veramente 1000 Siamo 14 a 10 dai Sì stessa Ah ma siamo il... Molto di più noi stavola Ma come cazzo li bilanciano le partite? Infatti non le bilanci Infatti su Thunder la maggior parte delle volte Sceglievo i torsi Tranne una volta ero scelto i tedeschi ma... Ma pazienza Ah in realtà qua per i tedeschi Tiene anche tutto bene da me Ti pareva? Ma perché hanno due giocatori che stanno facendo su console Quindi hanno un po' di vantaggio rispetto a quelli che avessero Ma ci sono i cinesi mescolate e russi Perché? Ah c'è dato uno tipo parlava mongol Ragazzi ma già siamo a tutti E lo sono acquisto il nemico Bello il bilanciamento eh Ah eh Ah eh Ah che era una rossa Vedete Spawn Almeno copritemi il cavo dai Già non dovete fa niente Ma io vado ad attraversare a piedi il lago ghiacciato Perché ho i pedi gonfi Sì Snoopy down mi ha fatto fuori Ah sì Io ce ne lo ricordo male qua C'è quello di prima o meno dove stava Eh sì C'è libero eh Infatti io stavo andando su C Anche io non ci andiamo verso C URRAAAA Se sembra poi non arrivano su B Se adesso arrivano su B Ok ora tutto il nostro Vabbè mi sembrava anche ovvio E niente io questa la faccio in villeggiatura ragazzi Sembro tornata a War Thunder Se qualcuno lo vuole abbattere quel caro E raga c'è un carretto Non è difficile buttare giù ma non lo riesco nemmeno a vedere Non è vero e lo sto distruggendo poverello Già sentiva Shambaya Io ragazzi io con questa fitta nebbia Che più o meno è massata le spalle Non so il cannes di buttare A miseria Questo si che si sa come si gioca No t'ho sbagliato a tirare la monitor A t'abbia pazienza LALALALA URRAAAA Ragazzi quello che ha una tanti cavo mi servirebbe Sì, perché io ci metto 20 secondi a ricaricare questo massacca molto prima Ma di quanti diamine di tanker aveva la dentro? No, qua non ce l'ho C'è uno che mi spara da dietro Vabbè, c'è il tipo di stabilità di tanker Ah no, è tornato dentro, se riprova No, ho sprecato una granata Scusi, all'ultimo secondo, no, 20 secondi di ricarica per termini Ma come 20 secondi di ricarica? Sì, il T-60 ho letto le statistiche 20 secondi di ricarica, il Panzer 2-9 ma non per sola 20 secondi sono una vita Immaginate in un duello Immaginate uno come me che spara alla panteria con i colpi anti-car Un pochino di cambiare Anzi, non si possono bagnare Questa sotto i... tre cosi, la come si chiama? I carri che stanno per me di là, l'intagliatrice Niente, non ti ho mai ganato anche il carro Ho stato trovato un altro carro Non so se... no, ok No, il raffreddimento Il problema è che l'amministratrice ha più riscalda che un piacere Io ragazzi, questa proprio non la sto giocando neanche Due kill Vuoi faccia? Cioè, perché tu sei nel 44? Sei tipo una bestia Poi ci spostiamo nel 41 Diventi tutti i tedeschi a mostra A sta in grado Scegli tu, guarda qui Raga, dov'è il Panzer II? Ah, è il piano, no Voglio iniziare io Comunque il PC-RV sono Non mi viene sempre più dover Sto giocando una kill Chilometrica la faccio Sto giocando con la squadra Ma è terribile Non si vede niente questa nera Non vedo niente ma sono sicuro che quello sia un carro Ok, ho messo una a terra Portatamente C'è la situazione che mi aiuta per un russo e mi aiuta per degli obiettivi quando ti tova mai stabilcendo al massimo Cioè, stanno ribaltando ragazzi la situazione Stanno ribaltando, amori, sistemiamo subito, amico Forza ragazzi Non diffondere disinformazione, compagno TASVIDANIA Com'è ci sono i cittadini? Cioè, arrivederci Oh, oh, oh Scusa Scusa Steggetemi Non vedo niente Ah Ma cazzo Per chi non mi vede? Io sì Tagga, indica Non trovo perché ho il cecchino Troppo tardi perché ti li ho uccisi Madonna ragazzi, ma un mare di confusione Cioè, per ammazzare qualcuno qua ci vuole veramente Una vista nuova acuta Ma di più Ma poi anche il mirino di merda che hanno questi Potrebbe avere grande vista Basta caricare in massa per vincere Punti Abbiamo vinto Quasi Sempre bene ribalto dalla situazione Ma dopo tutto devi considerare che siamo 5 in più Molto meglio di noi come statistiche Però... Non possono apparare che ci sono quattro player di differenza Quattro player di migliore dei casi sono 20 soldati Oh che fai tu? C'era uno che mi voleva portellare su Che cucina un random No che fai? Che fai? Che fai? No Ah, una kill finalmente Ma quello è un Panzer 3 Si vabbè, dai Vedi, non ho mai colpito un Panzer 3 con una granata Provaci Ho sempre una prima volta lì Vini qui inutile carri Ma dai, ma già ero tornato indietro Ma tu... Cazzo il carro non si ferma Ma che parli Andava a voi aiutare E stanno a reconquistare a B Vabbè Capito Vabbè Victory! Capito 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 l'ultima parte ciò faccio atti 10 minuti va bene ora ora di dei battaglia sempre di russa o normandia no menti o battaglia raga i croniani è morto che ecco sulla terra battaglia di mosca o di dei ma ancora mosca dai ce l'ha con la russa per metti di pronto per lei a me cambia poco e dove volete un attimino questo potenzialo tutti i soldati dai non potenzia nessuno e me ne foto va bene non è questo l'approccio giusto quale sarebbe l'approccio giusto beh prendi un mitra mp38 lo potenzia al massimo e poi fai vedere la potenza germanica quale che soppunto è male mp38 ancora a livello 5 lo sblocco la campagna io ci sono ok che se vuoi sentiamo con l'asse di asse asse noi siamo assolini potenziamo di più l'asse che il resto anche se mi piace un casino no di nuovo qua pericolosa la massa ci parleranno niri raga più niri che stavolta dell'asse completi però siamo dieci contro dieci a meno cosa buona questa volta diventato pepe vieni in b io sono subito e non perciò stanno ok va bene occhi che arriverà l'inferno qualcuno ha genieri anche perché non si vede niente beh dai occhio che ci sono i cacciatai ultimamente è bene hai battito il 1 si sia l'uno che il 5 e poi il 3 5 vabbè mettiamo su un enorme velo pietro sopra dai però gli altri meglio infatti il mio prova pietro è stato il 3 anche se non l'ho preso quando uscito chissà quanti anni fa tipo 2 anni fa l'ho preso l'ho comprato all'uscita e poi ho scoperto che il mio computer non lo leggero non è bello l'ho trovato in modalità cretata ho provato solo la storia vabbè dai c'è l'ha trovato e non è che l'ha pre l'ha trovato se sbaglio così eri in giro sei tipo coslla come che si chiama l'hai trovato sotto i piedi no ufficita spam c'è l'ha trovato con la campagna di mostra mi rossi ogni volta di me non farsi ho un perone non più vicino a me dottor avevo straccato la squadra in modo specifico per i carri invece qua non ce ne sono ma non giustamente chi è così folle da andare con un carro in montagna? io io giusto ok li vedete? lo abbiamo sconfillato all'inverosimile no maccia ma riuscissimo a dire questa ma no ma no ragazzi ma c'è chi killa dall'altra parte del bonger oltre il fiume mira dentro il bonger anch'io lo farei se non potessi fare altro ma cazzo fatti una vita vabbè se c'era l'ottica buonger sennò pazienza madonna quando ci vuoi per spawn? credo che i russi non siano contenti di aver portato subito hanno sconfillato mentre ero ferito esecuzione di vetta e poi un micro antusinamenti ma sei primo eh si vabbè cioè sembra per poco però eh 11 kill sai solo per poco 10 kill poco non sono eh considerate che noi stiamo a 2 a 3 ah ma solo io sono avanti ovviamente ho un cosa l'equipaggiamento là come si se vedete i carri ragazzi ditemelo eh eh si vediamo qualcosa più avanti tedesco quelli che mettono nella mappa così l'abbellimento comunque è normale oh ma da b ci stanno facciando eh ci stanno andando su a oh da b stanno arrivando i porti ah capito c'è la stamina eh perchè in danny ci siamo spostando in a avrei bisogno un po' di copertura lascia un tag è l'avalım di i ravio ci stanno at Eh, non l'ho abbattuto il carro, ragazzi L'ho preso dei cingoli Sì, qua c'è un altro canto Ma quanto stiamo abbussando? Non stiamo vincendo? Secondo se c'è la granata Io non avevo nemmeno certo che stavamo vincendo Sì, qua c'è un altro canto No, scappa, scappa Non andate in là Allora, ragazzi, io penso sia fondamentalmente pulita Sì, almeno Cosa, Gecko? Non ti ho capito Dici? Gecko Sto provando a catturare lì Sì, era proprio pulita Oh, vai Eh, che forse ce la faccio o no Questo dovrà Ci stanno a due Panzer II Ci mancava pure che era piena di me Sto in B Eh, sono morto Ebbè, non avendo più A Non siamo tutti tutti in B Ah, ma quello è un favore nemico Ebbè, ragazzi, ma dalla floresta non si vede una minchia, oh E qual? E qual? E qual? E qual? E qual? Sua Sì, ma qua Sì, ma qua Assuna Sì, questo è il massimo. Ah, è proprio qua. Non è vero, non è vero. Non faccio dal chido da 20 minuti Ma voi quanti fps fate? Io sto giando a 130 Dei 50 agli 80 Prova perché non la mi faccio fps Devo volermi a 50 e 70 ma non fps E' un po' come il mio gira Ma dai ma questo stronzo dov'era? Mi dissocio Stiamo perdendo la battaglia Ci provo ragazzi Ma qualcuno vuoi più tempo? Oppure è stato sti infante via Non lo so Guarda qui Guarda la stamina No! Dai ma dai Nooo che cazzo chiuso di stai No! No! Solo se prendiamolo frontalmente è utile No! Prima ha fatto una kill con la molotov Sì 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 Di poco conti carri Sì contro la fase che è sempre utile Ma comunque ho visto che tipo se tu stai dentro un carro ti tirano una molotov E' orrendo E' oscura la visuale Però non nemmeno le cave Non nemmeno il colpo Non nemmeno si no Perché crea una difficoltà chi sta guidando il carro Però non è che Avrà fatto il carro Non ti cambiala io Non è che stai facendo di novesse Eh Quanto Vabbè ma adesso come cazzo si è salvato scusa No perché spara colpi a casa? Vabbè 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 Ma f把它 Alfa Ma fabbò Fantastico Her submitono Allora A Stiamo perdendo ragazzi Un obiettivo facile da mantenere C'è come lo fuori in la diretta C'è come per noi C'è appena appaghi Secondo lui E' possibile da mantenere come nemico E' c'è molto movimento proprio Su A Su B praticamente Non sta avvenendo nessuno perchè Vengono craccati a minchia Bastardo Ci sono rimasto male Ci spavano da B Perchè non vedo nessuno Da B praticamente nella foresta dietro di B Ci sono un paio nascosti Infatti mi hanno fatto fuori tutta la squadra E poi non sono riuscito a tornare C'è anche un po' il bardamento sul B Occhio Eh lo so adesso Adesso me ne sono accorti Non c'è niente Beh Adesso ci muoio pazzia Ma abbiamo vinto Noi abbiamo vinto Oh Ma viete Ma giustanziamo con i rossi Venti due kill Io non lo so Quindici kill Da che ecco mi ha superato alla fine bastardo Hai preso il best trooper eh Grande Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti